Ci siamo! Buon Natale! Benvenuti a questo Christmas workout! Faremo 20 minuti di movimento, allenamento, noi lo faremo in coppia, potrete farlo anche da sole. Alleniamoci e divertiamoci in questo Natale! Olè! 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 Allora, iniziamo con un po' di riscaldamento, giusto due minuti. And go! Quindi, iniziamo, andiamo giù in squat, mi prendo le punte delle dita dei piedi e allungo, allungo dietro la gamba, muovo un po' indietro e avanti, cammino un po' nei piedi. Ok! Ok! Vado giù E riallungo Vado giù e salgo dallo squat. Ok! Lancio un piede indietro, vado in affondo, scendo, tengo un po' la posizione, molleggio That's the jingle bell rock! Torno su, vado avanti, lancio l'altra gamba indietro e scendo sempre in affondo, molleggiando. Ok, da qua salgo su, allungo la gamba avanti, spostando il peso indietro e mi piego verso la gamba. Dolore! Dolore! Cammino dietro e vado in plank. Vengo! Dal plank, porto indietro il peso. Sei pronta Vale Dallenatti? Prontissima! Sei pronta? Ready! Sei in pike, sei in pike. Certo! Ok! Mi siedo nei talloni e salgo in pike, lo facciamo altre cinque volte e siamo pronti ad iniziare. Due, tre, quattro e cinque. Ok, quindi gli esercizi che andremo a fare sono cinque, quaranta secondi di lavoro, venti secondi di pausa, li ripeteremo quattro volte. Venti minuti di workout, easy. Divertiamoci! Allora, gli esercizi sono con un partner, con un amico, con il vostro nonno che sta ancora finendo di digerire, portalo davanti a voi, avvicinati, mani, ci prendiamo per mano e squat, salgo a fondo dietro incrociato, chiudo, squat, a fondo dietro incrociato. Ok? E così si va avanti per quaranta secondi. Poi si va in plank e facciamo shoulder taps, quindi tocco spalla, tocco spalla, batto cinque, batto cinque. Tocco spalla, tocco spalla, batto cinque, batto cinque. Oh yes! Subito dopo, addominali. E quindi... Questo è complicato! Non sappiamo che... Questo è più divertente perché facciamo dei V-ups incrociandoci, quindi si parte lateralmente, si chiude, si passa in mezzo e si riapre. Chiudo, giro su e riapro. Non perdete il tempo! Se questa apertura su la trovate troppo difficile, passate sotto, cercando di non scontrarvi. Ok? Continuiamo con il quarto esercizio che sono la sedia in tenuta. Quindi, sedere contro sedere. Ok, aspetta. Oh là, vai. Stiamo bene. Spalle contro spalle, vai. Ah, è in grado. Ok. Ok. E reggimi. Ma cosa fai? Vai, vai. Vai, vai. Ma che stavo perso io. Sì, ci mette nella sua vicenda. Eh sì, però... Allora, vai, sedere contro sedere. Sarà bellissimo. Esci. E io c'ho il coso che esci. Alla, che c'è il cipolozzo. Allora, facciamo così. Schiena contro schiena. Vai. Ok. Iniziamo da qua. Vai. Ok, da qua. Giù. Ok. Però reggimi vale. Devi spingere. Eh, ma... Se no ti butto giù. Ok. Ok. Ce la potremmo fare, forse. Secondo me, ora del quinto giro abbiamo capito come funziona. Ok. Vai. Ah, fa malissimo di già. E poi terminiamo con il passo del peso. Sembra una cosa un po'... Un gioco di squadra. Il passo del peso in plank. Vai. Quindi mettiamo il peso davanti a noi. E... Cioè, no, scusa, parto io. Vai. Parto da in mezzo, lo prendo, lo sollevo e te lo metto lì. Olè. E ce lo passiamo. Che gioco divertente. Potrei anche decidere di passarvi tipo i regali di Natale, così. Il palettone. Sotto l'albero, insomma. Il palettone. Esatto. Ci capivo. È libertà. C'è libertà nella scelta degli esercizi. Perfetto. Sono pronti. Saranno lunghi così. Sarà tosta. 20 minuti. Pronti a iniziare. Io tengo il tempo. Timer on. Let's go. Non metto la musica. Ci divertiamo un po' insieme. Quindi, pronti? 40 secondi di lavoro e squat a fondo dietro. Ok? 3, 2, 1. Vai. Squat. Ta. Dietro. Ok. Squat. Vedi? Questo è anche piacevole. Ti sta contando? No, io non conto. E sto cappellino che mi sta facendo un caldo. Perché, ma nel lato di là non ti vien da farlo squat. 30 secondi. Esatto. Tant'ora. 40 secondi. Penso che ogni volta ho sempre paura di non aver attivato il timer. Sì, perché mi succede. Ottimo. Spero che tu questa volta l'abbia fatto. Fa me controllato. Sì. Stop. Ok. 20 secondi di pausa. E andiamo giù in plank. Shoulder taps e clap. Dammi 5. Ah? Aspetta. 3, 2, 1. Go. Ok. Shoulder tap. Tap. Ha. Ha. Vince chi fa la più forza. Tu me lo dire. Sai che sono competitiva. Sì, leggermente. Poco poco. Ora apro la finestra che sta a morire. Forse il cappellino si non è esattamente una buona idea. Ah, questi 40 secondi sono sempre infiniti. Stop. Ok. Ok. Anzi, è Natale. Ma molto bene. Io lo tolgo. Idem. Sai, mi faccio anche una coda. Eh. Hai 9 secondi. Ottimo. Eh, eh, eh. Ora? Abbiamo gli addominali incrociati. Ok. Vediamo se sopravviviamo. Ti spaventa di più la sedia. Eh? Devo dire che è quello che ti spaventa di più la sedia. Go. Anche perché devi andare a tempo. Tu vai velocissimo. Eh, ma io perché penso che tu vai veloce. No, no, piano. Allora, rallentiamo. Oh, calma. Io passo sotto. No. No, Fascia, sei tu quella giovane, eh. Scusa. Ricordatelo. Tanto dura. Ce la fa più. Dai che abbiamo quasi finito. Forza. Oh, oh, oh. Questa che è il primo giro. Vabbè, ma il primo giro è sempre il peggiore in realtà. Stop. Ok. Sedia. Questa è arrivata. Ma perché mi viene da fare lo squat? Squat. Squat? Invece devo... Lo squat. Ok. Lo squat. Ci siamo? 3, 2, 1. No, vale, vale. Ma partiamo dalla schiena. Sì. Mi sembra meglio. Devi andare un po'. Ok. Ok. Però reggimi. Spingi. Spingi con... Oh. Poi cadi. No. Sei su? Ti reggo. Tu spingi con la schiena, non troppo. Ora, oh. Allora, sei contenta. Eh, no. Ok, va bene, così cosa c'è. Resti qua tra l'impegine. Niente, io ero fatto le gambe. Non ho fatto il timer. No. Scherzo. Io ero fatto le gambe, sono felice. Ecco. Dai, 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 manca poco. 3, 2, 1. Allora, no. Al 3, 2, 1 non succede nulla. Allo 0 si molla, non al 3. Devo farti cadere. Poi ci mangiano secondi. Passo del peso. Ok. Lancio del disco. Ok. Andiamo. Pronti in 3, 2, 1. Vai. Go. Tenga, signorina. A lei. Prego. Niente, è finito. Quindi me l'hai fatto o no al regalo? Allora, sì. Non mi è chiaro. Il regalo è stato pensato. Ah, ottimo. È stato anche per metà acquistato. Ok. Non è stato completato. Come doveva essere. Vabbè. Però, cioè, è work in progress. Come tutto. Piano piano. Arriva. Stop. Ok. Primo giro. Ne mancano 3. Ah, 3? Eh, sì, 20 minuti. Ah, non ti è rapido, eh. Sarà rapido? No. 5, 4, 20. Ok, ricominciamo. Ta, ta, squat. Mi raccomando, lo squat in merda. 3, 2, 1, go. Squat di qua. Ok. Eh. Vedrai che questo giro andrà molto meglio. Io il primo... Ogni volta dico... Come arrivano? Ma a me l'unico che non piace è la sedia. Non so perché te lo proposto. Poi te lo proposto pure io, davvero. Perché tu vai in squat. Sì, è perché mi sento instabile. Devi provarlo, cioè, è come farlo contro il muro. Eh, sì, ma tu non sei come il muro. Capito, ma il muro tu appoggi la schiena. Sì, hai ragione. Ora poi mi concentro. Considerami come un muro. La tua colonna portante. Oh, mi ha detto stop. Mi passo nella mia vecchiaia. Stop. Ah, da un po'. Sembrava lunghi. Eh, vabbè. Ho aperto la finestra nel frattempo perché... Yes. Abbiamo questo... Clap. Sì. Ok. Tre, due, uno, go. Shoulder tap, tap, tap. Shoulder tap, tap. Mai pensato di farla cantante? No. No male. Perché? Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. No? Sì. Sì, dai però. Non male. Non mi fanno mai cantare. Dai, dai che manca poco. Siamo... Non lo so nemmeno... Dai! Ho perso. Non c'entra. Secondo me sono finiti però. Stop. Ora. Brava. Oh, sai. Hai visto? Anni e anni. Di 40 secondi. Esatto. Sì, 40 secondi. Sorry. Cosa vuoi? Non ho capito. Ok. Non ho capito. Io alla fine mi ritrovo sugli avambracci. Perché altro io ho il tappetino che sta a rotolo. Eh sì, noi non mi hanno detto tappetino. Perché andiamo così veloce? Sì, tu che vuoi fare? Eh, no. Sì, è vero. Sei lenta, te lo dico sempre. Eh sì. Ok. Poi le braccia dietro che si aggirano. Ok, stop. Non mi piace questo esercizio. Sei un po' lamentosa, fascia. Per quello durante i workout metto... No, ne sento. Quando registri, allora... Si, metto la musica. Ok. Oh no. Schiena contro schiena. La mia. Ok. Andiamo. E giù. Ok. Perfetto. Listo? Sì, ma mi fa malissimo. Cosa? Le gambe. No. Dai, dai, dai. Scusa, non ho un sguotto. Non ce la faccio più. No, no, no. Dai che ce la fai. Tieni, tieni. Dai, 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 dai. Che mancano... Pochi secondi. Stronza. Pochissimi, eh. Reggi, reggi, ci sei. Pochissimi. Vai, vai. E vai. Ma no. Ti diverti un po' troppo su quello. Ti cade insieme. E ci si rialza. Aspetta un secondo. Ok. Oh no. Aspetta. Sì. Ok, quindi ora passo del peso. Mi fa morire sto nome. Pronti a partire in... 3, 2, 1, go. Voilà. Mi vedo sempre più lontana. Ma se io questo te lo do sulle dita? Non è piacevole. No, direi di no. Adesso c'ho paura. Non darmi le idee. Che lo sai che poi... Eh, lo so. Mi stuzzichi. Poi sei competitiva. Dici, ok, stacco tutto. Lo faccio prima io. Ma ho un pesetto un po' più leggero. Non lo so. Hai scelto tu. Stop. Ok. Secondo round. Terminato. Terzo round. Aspetta. Ci sono di per 5. Ci sono di per 5 gradi qua dentro. Ok. 3, 2, 1, go. Siamo di essere più silenziose. È vero. E ora c'è la concentrazione mix stanchezza. Ti sei slacciato una scarca. Eh, ma non posso fermarmi. No. Lo farò nei 20 secondi. No, brava. 20 secondi. Le dita più veloci del West. L'ho avviato. Ok, ci siamo. 4, 1, stop. Ottimo. Vai, vai, vai. Vai. Che ansia. Avvicinati un po' che stai andando giù dal suo palco. Ok. Giù. Ok. Shoulder tap and clap. 3, 2, 1, go. Shoulder tap. Tank. Tank. Tapp. No. Qual è quello più riposante per te? Beh, questo. Quello più faticoso? La sedia. La sedia. Mannaggia a me. Ma sì, facciamola. Per me il più faticoso è gli addominali. No, io secondo me è perché ho fatto ieri le gambe. No. Quindi. Il mio batte 5 è sempre più basso. Stop. Il mio batte 5 è tipo, dai. Sì, ma è una carezza. Sì, ma è ormai. Mi incontro. All'inizio si va scemando in queste cose. No. Ah no, bello. Bellissimo. Meraviglioso. Stasera prima di andare a letto non vedo l'ora di riparlo. Ok. Go. In ritardo. Sto un po' troppo vicino. Aspetta, mi sono vicino. Ti piace? No, l'odio. Cerco qualcosa di positivo. O di non pensare. Non portarmi a nipote. Eh, davvero. Mi avrebbe fatto sfigurare a far... Ah, bello, verticali. Oh, ponte. Oh, ruota. Sì. Stop. Odio. Sedia. Con questo mi guadagno il panettone. Guarda, mi sa che il panettone... Ce l'ho già lì. Lo siamo già comprati a casa. Ce l'hai già tranquilla. Schiena contro schiena. Io dicevo quello da mangiare. And go. Spingi. Vai. Ok. Oh, tieni. Eh, non stai spingendo molto. Io ti tengo, ma non c'è. Eh no, ho paura che mi la molli. Io non t'ho mai mordato. Poi non è che fai molto, eh. Dai, dai, che manca pochissimo. Mi stai... Ok. Quattro. No. No, che poi. Mandi tutti in confusione. Ah, le gambe. Dai, 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 dai. 3, 2, 1. Uff. Vedi che bello scendere insieme. Ecco che adesso sono stanca vera. No, no, dai che manca l'ultimo e poi solo un giro. Poi mi hanno finito. Eh? Wow. Eh? Eh? Un po' del peso. Yes. Parto da qua. 3, 2, 1. Go. Troppo vicino. Troppo vicino, mi sa. Prova a ripartirmi. Eh? Cosa? Troppo vicino, mi sa. Eh, questo io lo fatico, eh. Lo fatico. Vabbè, è toscano? No, guarda, lascia fare. Anche questo è toscano, lascia fare. Quale sinistro sopra te? Oh, io posso leggere. Mi spiace. Stop. Mancava un secondo. Eh, non lo so. Non bollare. Dai. Oh mio Dio. Si ricomincia. Dai, che è l'ultimo giro. Yes, yes, yes. Ok. Oh no. Non ce l'ho fatta, scusate. No, in questione. Tutto così. Belle e fresche. No, ma un... Un parcattino da 20 minuti, eh. No, è quella cosa per Natale, per divertirsi. Ultimo round. Go. Squat. Forse non dovevo mangiare la lasagna prima di venire. Mi sa di no. Non è stata un'ottima idea. Pensavo di farlo un pochino più tardi, poi ho detto, bah, togliamocelo subito. Poi ci mettiamo in cucina. Giornatona. Ti fa da... Sei come quando sul tapirulano c'hai la ventolina. La ventolina. La ventolina. Oh, scusami. Controllo, stop. Ok. Ok. Vuoi aprire un po' di più la finestra? Cosa abbiamo ora? Show the tap. Ah, sì. Vai. Io dopo un po' sconnetto. Ok. Tre. Due. Uno. Come on, go. Shoulder tap. Tap. Dai, eh. Yes. È l'ultimo. Un po' diverso. Super power l'ultimo. Dai, dai, che manca pochissimo. Stop. Ok. Brave, bravone. Dai. Dai, ragazze. Adesso c'è quello che odio io, poi quello che odi tu. E poi... L'ultimo che odio. Quindi niente, non si vince mai oggi. Dai. L'ultimo è l'ultimo. L'ultimo spinge a prescindere. Tre. Due. Uno. Go. Uh. Ti ha scocchiato il ginocchio. Uh. Quanto manca. Dai. Poco. Dai, dai, dai. Poco. E' nativo. Beh, dai, su 40 secondi al massimo ne mancano 20. 10. E allora. Dai, dai, dai. Oh, fa chance. E tu che molli, eh. Sì, sì. Dai. Ma io mi auto-ingito. Ok. Ok. Your favorite. Jimmy, chiamami. 3, 2, schiena. Uno. Uno. Dove sei? Ok. Sono qui. Per te. Ah, che schifo. E che? Sei stupiccicosa. Io? Va. Ora, che schifo. Dai, spingi un po' di più. Ok. Mi piace questo esercizio, è comodo. Non lo so. È anche una delle prove della sezione mettiti alla prova. Quindi, visto che magari sono passati due mesi o tre mesi da quando l'avete fatto, provate a ritornare a fare il wall sits. Vediamo se e quanto siete migliorati. Eh? Quanto manca? Stop. Ok. Dovevo dirlo così, era proprio studiato al secondo. Grandi, manca l'ultimo. L'ultimo. Come volano venti minuti quando ci si diverte. Wow. Ok. Ci siamo? Però devo dire che farlo in due è decisamente più divertente. Tre. Due. Uno. Go. Dai, dai, che è l'ultimo. Sei il lancio del manubrio. Mi penso morto proprio. Oi, oi. Dai, che ci sei qua, ti faccio alzare. È la sinistra, lo so. Ok. Finisci. We made it. Oh, yes. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'avete fatta. Che dire. Complimenti per esservi presi cura di voi anche oggi. Adesso andiamo a festeggiare. Ciao ragazze. Buone feste, tanti auguri, un abbraccio grandissimo da noi di Bloomwell, Silvia e Valeria. Valeria. Dal Bloom l'abbè tutto. Passo e chiudo. Ciao ciao. E non ci trollevamo. Che siamo? Oddio. Oh mamma. Facciamo un po' di stretch. Oh. E che è sta roba? Non lo so. E questo è lo stretch. Questo è lo stretch. Ma non ti ho insegnato nulla. Con mia nipote. Ah, ok. Mentre mi salta sulla pancia. E ti salta sulla pancia. Facciamo mobility. Mobility. Facciamo un po' di... Oh. Mamma mia. Mi sono un po' in cricca. Uff. Prima il tetto. E per me sono... Ssh. Sono qua. Con il sorriso. Con il sorriso arriva il tetto. Oddio. Uff. Quindi che ricetta hai pensato? Allora facciamo. Tofu gratis. I biscottini. Biscottini. Mandorle, cocco e chocolate chips. E poi facciamo i... Figo. Super buoni. Li facciamo in modo super semplice. Zero sbatti. Hai preso le verdure proprio sul gelato? Sì. Sì perché puoi farlo. Quello è vero sul gelato secondo me ma anche in realtà col minestrone. Perché tanto il minestrone. Se prendi quello... Sì. Quello sul gelato va benissimo. Non hai blocchi di brodo però dentro? No. No no. Tipo quello della... Puh. Della origin. Ah. E scusa cosa fa il brodo? L'acqua. Sì. Però deve avere... Eh no ma le verdure lasciano credo un po' il colore dell'acqua perché infatti non è che sarà di brodo. Tu dici che non hai neanche un po' di brodo insaporitore? Non credo. Cioè di per sé se lo fai asciutto che hai però effettivamente sì lo devi versare un pentolo d'acqua. Sì. Sì sì. Però se lo fai asciutto è come se fossero le verdure. Per cui è anche una cosa intelligente. Ok. Sto grodando. Eh la madonna. Adesso a fermarmi. Sudo più di prima. Vuoi che chiudo? Ti arriva troppa aria? No no. Oh no. Per carità di Dios. Lascia entrare. Che poi... Non so se... Luna è ancora in quella posizione. Ma c'è l'una che è con la fascia dentro le coperne. Ma luna dorme in... Sempre. Cioè all'infinito. Poveriggio sempre. 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 Pensa all'altro giorno. Una... Una ragazza mi ha scritto. Aspetta che spengo. Sì. 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 Sì.